stiamo trasmettendo ora la musica di marco domeniconi oggi con son marco domeniconi vi accompagna la scoperta di suoni e ritmi raramente proposti ogni giorno marco domeniconi vi guida in un viaggio verso nuovi panorammi musicali questa è la musica di marco domeniconi la musica di marco domeniconi ogni mattina un ospite di rilievo con noi oggi marco domeniconi